1-1 tra Genoa e Lazio, è una partita che alla Vigilia si voleva grintosa, soprattutto da parte del Genoa, ma che alla fin fine è risultata abbastanza corretta. Non c'è neanche il tempo per controllare i accoppiamenti in campo che Genoa va in vantaggio. C'è un'azione di Policano sulla sinistra, palla per Fiorini e la punta ex San Benedettese opera un perfetto centro. Eloi di ginocchio batte Orsi. Sono passati appena 40 secondi di gioco. 1-0 per il Genoa. Lazio reagisce, c'è un bel pallone per Giordano, ma il tiro è ribattuto da Cervone. Poi l'azione sfuma per la difesa del Genoa. Repica poi comunque il Genoa con questo bel tiro di Oterri servito da Onofri. E adesso c'è una bella azione di Laudrup per Podavini che viene atterrato da Bergamaschi. Per l'arbitro Magni è rigore, si appresta a tirare Giordano, tira infatti sulla sinistra di Cervone ed è gol. È il decimo minuto ed è 1-1 tra Lazio e Genoa e così finirà la partita. C'è ancora poi per Lazio questa occasione, ma Manfredonia solo, passa a Giordano che è in netto fuorigioco. L'arbitro Magni infatti non concede il gol. Il Genoa poi reclama due rigori, questo su Eloi da parte di Vianello nel primo tempo. Ma non lo valgono le proteste del Genoa. E poi su questo lancio di Eloi per Policano, Policano che entra in aria, viene atterrato da Vinazzani per l'arbitro Magni ancora. E non è rigore decisamente e quindi la partita rimane su 1-1. Il Genoa tenta ancora con Fiorini, questo bel tiro sulla traversa di Fiorini viene respinto. Benedetti tira ma la palla va all'altra e su questa azione del Genoa si conclude.